va girata è normale che fa con il fuoco come cazzo si gira è zitto ma se tu la butti nella fiamma è normale che gli dai il fuoco vabbè la prima è dei bambini non l'ho mai fatta eccolo non tocca porca è concluso ma secondo me è troppo forte no 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 è troppo forte la fiamma la rampa ma c'è qualcosa in lunga secondo me è troppo dici troppo alta è troppo Grazie a tutti